Qualcuno si è allontanato dall'accordo istituzionale ma come si è potuto vedere oggi c'è uno spirito molto costruttivo nella maggioranza del Consiglio Metropolitano. Mi auguro che quanti più consiglieri possibili possono contribuire al lavoro della città metropolitana è un fatto positivo per i comuni, per i nostri territori, per i nostri abitanti perché le cose che stiamo facendo sono davvero tante e lo dimostreremo anche col bilancio che andremo a approvare la settimana prossima. Qui non c'è un accordo politico, c'è un accordo istituzionale, a noi compete fare gli interessi dei territori e dei nostri concittadini, qualcuno ha ritenuto di allontanarsi da questo accordo e quindi ne prendiamo atto, noi andiamo avanti.